Era andato in ospedale a casa di un malore ed è stato arrestato dagli uomini della scuola mobile di Reggio Calabria e dei commissariati di Città 9 e Taurianova che erano sulle sue tracce dal dicembre 2017. Si tratta dell'attitante Giovanni Sposato, esponente di vertice dell'omonima cosca di Taurianova, fuggito all'arresto nell'ambito dell'operazione Terra Mara Closed, coordinata dalla direzione distrittuale antimafia di Reggio Calabria. E' accusato di associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni. L'uomo è stato bloccato al pronto soccorso dell'ospedale di Polistena, dove si era recato dopo aver accusato un malore. L'operazione Terra Mara Closed aveva portato alla luce infiltrazioni negli appalti per la realizzazione di opere pubbliche, oltre a intimidazioni e distruzioni, condizionamenti nel campo edile e in quello alimentare, e il controllo nelle intermediazioni immobiliari, nelle produzioni serricole e nelle energie rinnovabili.